Diceva Dante che l'amor che muove il sole e le altre stelle, ma, per quanto universale, non credo che sia l'unica assoluta applicabile a una percezione prettamente personale. Virgilio, d'altra parte, contemplava testimone del dovere quanto vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole e non più dimandare mettendo a tacere il lamento sulle sponde dell'ostige. Escavando questi estremi tra il calore del motore universale, il freddo dell'onere, l'inizurabile e l'anello di congiunzione, è imprescindibilmente la noia. L'impoverimento che porta la noia è forse destino tra i più atroci ed è un aspetto che non nascondo mi abbia sempre instillato. Tetro terrore. Odio profondamente la noia dal livello concettuale all'applicabile per direttissima nel quotidiano, perché è l'aridità fatta a contesto umano. L'assenza di stimoli che preclude crescita e incarna l'immobile, in asprendo, la pena di vivere in una vita già di per sé grama e distenti. Allora perché? Perché deve essere così complesso averne in un'epoca dove ormai tutto è virtualmente disponibile, accessibile, tutto e dappertutto in ogni momento? Com'è possibile che quest'ipersaturazione di contenuti non conosca un filtro? Che sia uno in grado di scremare discrepanze che sono soltanto capaci di creare una bulimia contenutistica? Poi certo l'impronta ipercapitalista e l'ossessione del consumo senza realmente approcciare a ciò che vi ci si para davanti, è un po' troppo il riflesso dello stampo di quest'epoca, che ha dimenticato il fondamento di ciò che riguarda l'essere umani. Basta guardare quanto prese piede l'hai e la più cieca delle illusioni credendo che si trattasse di chissà quale livello di innovazione perché questo feticcio della novità deve essere sfamato a ogni costo senza condizione di causa e ancora un ammassarsi senza fine di ulteriori stimoli, peraltro negativi che vanno soltanto ad ammattire ciò che di buono esiste al mondo, partendo dalla realtà dei fatti di star vivendo attorniati dallo sforzo altrui, dimenticando, anestetizzati, che in questa vita l'unica costante deve essere non dimenticarsene mai. L'arte in questo è dall'alba dei tempi l'unica ancora che resta intatta nella deflagrazione generale di quell'amalgama tra etica e morale. L'imperterrito caposalto di ciò che vale la pena tenere a cuore per proseguire a vivere è l'apice massimo di quello che è lo stimolo per antonomasia ed è attraverso lo sforzo che crea un ponte nell'altro, eppure, eppure in questo tempo increspato da correnti incessanti di produzione quantitativa di scapito della qualitativa, resta soltanto l'amaro della demoralizzazione. Sembra quasi che in questo paradosso di surplus contenutistico non ci sia più, non ci sia quasi più, nulla cui valga la pena approfondire, resta solo il disincanto della nostalgia, su cui, tra le cose, alcuni marciano malintenzionati. Ciò non toglie che non si può dire nostalgia senza noia e, per quanto demonizzabile l'approfittarsene di alcuni, si tratta di una doppia ellisse che mantiene positivo e negativo, dove la noia è non rincontrare l'emozione di uno ieri affacciato al domani pur desensibilizzati all'oggi, mentre la nostalgia la prova di aver vissuto delle emozioni che valgono la pena di aver provato, quindi rifrangendosi nella ricerca di quella, come dire, sensazione del passato nel presente, attingendo a una speranza del futuro. Chiaro che un altro, se non il principale fattore dominante, siano le risorse limitate rispetto alla natura, pressoché illimitata del consumabile, dove tempo e denaro vengono sempre meno e la necessità d'approccio all'incontro del gusto diventa una prerogativa principale. Oggi non c'è più spazio per essere delusi e, per quanto il sopracitato consumo sia non tanto una metafora di interfaccia, l'arte quanto più un sostentare l'anima, assieme a un dispiacere di non essere entrati in contatto con quello che sarebbe potuto essere percepito come piacevole, c'è anche un alore di sconfitta, il fastidio di aver sprecato dei beni irreperibili che per metà non torneranno mai più. Eppure c'è comunque del bene perché, nonostante l'amarezza dello sconforto, si è comunque ottenuto un san pietrino, utile al fine di costruire il proprio percorso con tutto ciò che di pello si approfondisce, riguardo ciò che non si conosce, cosa che poi andrà ad agevolare il passaggio del proprio bagaglio culturale, come se non bastasse anche soltanto giugere alla conclusione che opera tal d'Italia annoiata è comunque un ulteriore modo per rinfrangere la noia, anzi, a onor del vero, lasciano più gli approcci fallimentari considerando che portano a creare il presupposto per lo standard, ma questo è decisamente tutto un altro discorso. Già ne ho detta di roba, alcuna magari senza senso, altra probabilmente con un filo rosso. Ma in completa e totale onestà, tutto questo è nato perché mi stavo annoiando.